Il 28 e il 29 agosto di ogni anno all'Aquila si rinnova il rito solenne della perdonanza, l'indulgenza plenaria perpetua che Celestino V concesse a tutti i fedeli di Cristo la sera della sua incoronazione a Pontefice nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Da quel lontano 29 agosto 1924 il rito si rinnova con la stessa partecipazione e il profondo significato che assume il suo messaggio. Quest'anno sono la famiglia, i giovani, le origini, la pace, la solidarietà e la riconciliazione i temi centrali della perdonanza celestiniana. Come da tradizione un imponente corteo si è snodato per il centro storico della città dell'Aquila per giungere alla restaurata Basilica di Collemaggio dove il cardinale Joao Bras de Aviz ha aperto la Porta Santa. La rievocazione è stata accompagnata dalle autorità civili e religiose con dame e cavalieri in costume d'epoca per un totale di circa 800 figuranti. Tra le figure principali del corteo oltre alla dama della bolla ci sono il giovin signore e la dama della croce. Presente la delegazione della regione Abruzzo preceduta dal gonfalone e guidata dal presidente Giuseppe Di Pangrazio con il presidente della giunta regionale Giovanni Lolli e i consiglieri Pierpaolo Pietrucci, Alessio Monaco e Mauro Febbo. Di Pangrazio ha sottolineato il valore simbolico di questa edizione della perdonanza che torna dopo nove anni a svolgersi all'interno della Basilica di Collemaggio pesantemente danneggiata dal sisma del 2009. Questo evento, ha dichiarato Di Pangrazio, continua a rilanciare i valori del culto celestiniano offrendo un messaggio di speranza per un rinnovato futuro ad una comunità che si riappropria degli spazi e della propria identità.